Ciao ragazzi, benvenuti su Ali from the Block e FTB Channel, io sono Ali e quest'oggi vi parlerò di Topolino numero 3548. Eccolo qui, Topolino numero 3548, con questa bella copertina di Corrado Mastantuono, è colorata da Mario Perrotta, una copertina con sfondo bianco, copertina molto musicale, con i nipotini che suonano degli strumenti insieme al loro zio Paperino. Ed è un po' quello che poi leggeremo all'interno di questo numero, perché ci sarà una storia dedicata proprio alla musica e al gruppo, alla band di qua, uno dei tre nipotini, con i bumpers, scritta gialla con carattere in rosso della Disney, molto classica. Per quanto riguarda questo numero, poi vediamo che era a tira a Paperopoli la vignetta di Silvia Ziche, con Paperino che, mentre riposa, dice appunto a qui qua qua che stanno giocando ai videogame, gli dice perché i sogni non sono forse il più bello dei videogame. Ed è riferito alla fiera che ci sarà a Milano, 24, 25 e 26 novembre, la Milan Games Week. Peccato essere un po' lontanuccio io da Milano, altrimenti sarei andato, perché oltre ai fumetti amo moltissimo anche i videogiochi. Alex Bertani introduce non le storie, questa volta non ci parla delle storie, ma ci parla del fatto che ci sono molti aspiranti sceneggiatori e disegnatori che vorrebbero appunto lavorare su Topolino, quindi dà un po' dei consigli a queste persone che sono lettori di Topolino, ma che un giorno appunto sognano di essere anche loro a scrivere o a disegnare Topolino. E qui abbiamo le storie, qua è i Bumpers, un arduo compito, storia di Giorgio Salati, con i disegni e lechine di Mattia Surros, al coroere di Irene Fornari, la storia principale di questo numero, che devo dire mi è piaciuta molto, poi quando si parla di musica, il Topolino è sempre molto bello per me, che amo tantissimo la musica, il protagonista sarà Brianna, che suona il basso nel gruppo dei Bumpers, dove c'è uno dei tre nipotini, cioè qua, c'entrerà anche la matematica, perché lei riceve un brutto voto a matematica, perché si vuole concentrare sulla musica, dopodiché non vi dico cosa succede, ma vi farà capire che anche la matematica è importante nel corso della vita, non soltanto insomma le nostre passioni, ma anche la musica e la matematica possono essere, insomma, possono andare di pari passo. C'è, ci sono i vari redazionali, qui i videogiochi fumetto la combo perfetta, c'è l'intervista a Claudio Sciarrone, che sarà presente alla Milan Games Week, ci sono anche loro, cioè i player inside, che spesso abbiamo visto, appunto, sulle pagine, ultimamente spesso sulle pagine di Topolino, sono degli youtuber che anch'io seguo, perché come vi ho detto, come ho detto spesso, mi piacciono i videogiochi. Poi c'è, ritorno a Dactopia, la strega e lo scienziato, terzo episodio di quattro della saga di Dactopia, una saga fantasy, che come ben sapete, insomma, ragazzi, non mi fanno impazzire, il genere fantasy non mi fa impazzire, però devo dire che sta andando avanti egregiamente, bellissimi anche i disegni e la colorazione, la storia, come detto, di Francesco Artibani e Lice Troisi, con i disegni di Francesco Di Polito, Kine di Lucio De Giuseppe, colore di Gaetano Gabriele d'Aprile. Pagina 85, però, parte una storia che io attendevo, magari sarà riempitiva per molti, ma io quando ci sono Paperino e Paperoga, ragazzi, impazzisco, perché sono i miei personaggi preferiti. Paperino e Paperoga senza sosta, di Tito Faraci, con i disegni e le chine di Giovanni Preziosi, all'esordio su Topolino, anche se mi sa che sullo scorso numero Alex Bertani aveva omesso di nominarlo, colore di Emanuele Virzima. Prima di pagina 85, ragazzi, ci sono delle piccole storie di una pagina luna, tutti in fila, preparativi, di Claudio Sciarrone, che ha disegnato e ha scritto anche le storie. Preziosi, mi piace come ha disegnato la storia, mi è piaciuta anche la storia corta ma incisiva, di Paperino e Paperoga senza sosta, alla ricerca di un parcheggio. Devo dire che mi ha divertito la storia, come anche queste piccole storie, tutti in fila. Poi c'è una storia di Pippo Spot, e la storia di Pippo Spot, ragazzi, Pippo Spot non mi fa impazzire di solito, però devo dire che in questo numero mi è piaciuto. Sul filo del vento, Pippo Spot di Alessio Coppola, storia di segni e chine, colore di Putra Shargwin Binab Jalil, una storia simpatica, del resto quando c'è Pippo di Mezzo, ragazzi, è spesso così, anche nelle vesti di Pippo Spot, ci sarà anche Gancetto, storia carina ma niente più. Si parla di NBA, il basket è il mio secondo sport preferito dopo il calcio, l'NBA la seguo, quando posso. E poi c'è una storia inedita in Italia, ma edita all'estero nel 2022, la lunga notte della numero 1, una storia danese di Maya Astrup, disegnata da Andrea Freccero, quindi i disegni sono molto familiari perché abbiamo il nostro disegnatore italiano, Freccero, qui in una storia danese si parla appunto della moneta numero 1 di Zeo Paperone che spesso vediamo nelle varie storie Disney, anche questa storia mi è piaciuta. Poi ci sono i disegni, le lettere dei vari lettori di Topolino, in settimane in edicola abbiamo le venture, le risate e soprattutto Natalissimo che ho preso, ragazzi, ma era una copia fallata la mia, se avete visto ciò che ho messo sull'opzione, insomma, sulla sezione community, è successo che hanno ristampato una storia due volte a metà, l'altra stampata a metà, quindi ho dovuto cambiarlo in edicola, ho dovuto portarlo indietro. Prossimo numero, 3549, soprattutto ci sarà il calendario da tavolo 2023, disegnato da Andrea Freccero, che io ovviamente prenderò come ogni anno, questa è la copertina e queste le storie. L'ultimo portale si chiuderà Ritorno ad Actopia, Mini Pippo e il mistero del Topoldo, Don't Worry Bumeppi con Bumbunghino che torna con la Diva, Topolino e gli intrusi di Irritop, Paperino Kukukwai, sensazionali ingressi dimensionali. Chiude il tutto, questo è il numero, 3548, Paperina, con ultimo modello dal diario di Paperina. Di Giulia Lomurno. Che a dirvi ragazzi, un Topolino che mi è piaciuto, più dello scorso sinceramente, mi è piaciuta molto la storia dei Bumpers, della musicale di Brianna, ma soprattutto Padrino e Paperoga senza sosta, che per me è al primo posto, secondo posto per Quai, Bumpers, un arduo compito, terza per La Lunga Notte della Mura 1, quarto posto per Ritorno ad Actopia, La strega, lo scienziato, quinto posto per Sul filo del vento, di Pippo Spot, poi c'è sul diario di Paperina, appunto dal diario di Paperino, ultimo modello, una storia ad una sola pagina, devo dire carina, quindi un numero, questo, il 3548, che mi sento di promuovere, sicuramente non tra i migliori in assoluto di quest'anno, ma comunque un numero che si lascia leggere, e ho trovato carino e piacevole. Fatemi sapere nei commenti se avete acquistato questo numero, se vi sono piaciute le storie, la copertina, eccetera, eccetera. Io vi ringrazio per aver visto il video, vi ringrazio per il supporto, come sempre. Mettetevi piace, mettete like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se già non lo siete. Ci vediamo al prossimo video, fate bravi, e appunto ci sarà settimana prossima un'altra recensione del topo. Ciao ragazzi.